Buonasera, il premio letterario è un momento diciamo quasi magico che fa parte di una vecchia tradizione ormai da oltre vent'anni, quindi da oltre due decenni, siamo giunti quasi alla venticinquesima edizione, merito della Proloco che come associazione è sempre prodigata di promuovere il territorio dedicando anche delle serate e delle giornate al mondo della cultura e questo fa parte diciamo di un'iniziativa che nasce dopo uno studio approfondito da parte del dottore Gabriele Turchi sulla storia di Belmonte che ha ritenuto opportuno dare diciamo una certa valenza e impulso a questo barone di Belmonte e da qui data la presenza anche di un suo e ancora oggi successore si è organizzata questa serata per dare delle tematiche e fare conoscere la cultura della nostra terra, del paese nei vari, non solo nei vari secoli con le nostre storie, le nostre tradizioni per conoscere meglio la Calabria e soprattutto il paese Belmonte e paesi anche vicini. Grazie a tutti! Grazie a tutti!